Lei ha detto che Raspadori non ha ancora i 90 minuti, Osimèn partirà dalla panchina, Kvara probabilmente dalla panchina. Ha già pensato chi metterla davanti e poi, sempre in virtù di far ricaricare un po' le pile a tutti quanti, anche alla luce delle ultime uscite, non pensa magari di far riposare anche un pomeretto? Sì, io ci ho pensato chi far giocare là davanti, là davanti che vorrebbe dire? I tre davanti? La posizione di Osimèndri, centravanti? Raspadori gioca davanti, centravanti gioca Raspadori. Poi? Sempre nel principio dell'alternanza, si è pensato di far ricaricare un po' le pile anche a Meret. E Meret è uno di quelli che dura meno fatica di tutti, essendo un portiere, però qui diventa un pochettino più particolare il discorso, perché ci sono anche altre valutazioni da fare. Per cui questa non gliela dico, poi basta.